Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannottasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Baldarno e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante di Valico. Fare inoltre attenzione per pioggia sulla variante di Valico, pioggia anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia e sulla FIPI-Li lungo tutto il percorso. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra l'incrocio di Borgo Ammozzano e Borgo Ammozzano. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze per i lavori della tranvia da domani a sabato in orario 21.6 restringimenti di carreggiata in Viale Morgagni e Piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!